Mamma mamma mia che fatica, che fatica per fare un cazzo di gol, un cazzo di gol, 80 minuti, 45 milioni di tiri, ma me ne frega un cazzo si doveva vincere oggi e si è vinto contro quella merda umana che non so nemmeno di nome. Inter-Roma che davvero ragazzi c'è primo tempo 12 tiri, la Roma 0, cioè nemmeno, non so quanto ti importa, ma i tiri normali e la Roma ne ha fatti 0, il primo tiro l'ha fatta al 65esimo minuto e ti hai fatto 0 gol nel primo tempo, ma Dio santo ma questa partita era proprio stregata, meno male che siamo riusciti a segnare la fine perché sennò era un po' un problema, perché poi c'era il rischio che perdevi la vetta di nuovo. Ora stasera ci mettiamo così, belli sdraiati, belli tranquilli a vedere Napoli-Milan. Mamma 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 mia, partita che davvero si stava un pochettino mettendo, si stava un pochettino complicando, e ci stava un pochettino complicando anche noi perché tra tutte le occasioni che si è sbagliato, porca proia, non so, cioè sono un pochettino, sono difficili da elencare perché sono così tante che davvero. Poi tra coordinamenti non riusciti, millimetri per buttare la palla dentro, pali, traverse, cazzi, ammazzi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Che tra l'altro mi ha segnato anche Turam che ce l'ho titolare al Fanta, quindi godimento doppio. E nulla ragazzi, io mi chiudo qua, adesso non ci stanno partite questa, cioè nell'infrasettimanale fortunatamente, testa Bergamo che anche lì c'è da vincere. Forza ragazzi!